Le recenti edizioni della Sagra del Mandorle in Fiore hanno dato l'impressione di accanimento terapeutico nei confronti di un malato terminale. La Federalberghi ha ricordato tramite un comunicato l'esistenza di un protocollo d'intesa tra il comune di Agrigento e il distretto turistico regionale della Valle dei Templi, con il quale si affidava la gestione della Sagra del 2013 direttamente agli operatori turistici del settore. Nonostante ciò, dopo la sospensione della procedura avviata allo stesso distretto turistico, dopo l'atto e l'indirizzo presentato dalla V Commissione Consiliare al fine di impegnare l'amministrazione comunale a costruire con urgenza un ufficio permanente Sagra del Mandorle in Fiore e le attuali notizie sullo stato economico finanziario del comune di Agrigento, sorge spontaneo chiedersi quale sarà il futuro della tradizionale festa del folklore. Federalberghi chiede che si pianifichi in tempo un evento che permetta agli operatori turistici di creare in tempo utili relazioni commerciali che possano incrementare il flusso turistico durante la manifestazione. Rinviare la Sagra, informa Francesco Piccarella, non sarebbe una scelta conveniente perché si perderebbero finanziamenti regionali che in ogni caso non potrebbero essere utilizzati al fine di colmare gli stessi delle casse comunali o per ridurre le tasse. Piccarella auspica quindi che l'amministrazione comunale tenga conto di questo appello di Federalberghi e che si decida a organizzare in tempi utili la Sagra del Mandorle in Fiore. Tenendo conto anche dei consigli che il distretto turistico della Valle dei Templi può dispensare al fine di portare nuovamente la Sagra ad essere la manifestazione più rappresentativa della cultura e dell'accoglienza della cittaria grigento.